Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Fortnite insieme al nostro compagno Marco Ciccone, The True Player Bella raga, bella Oggi raga, oggi però, sono tornato, insomma, posso giocare finalmente Il video che avete visto, cioè, giocavo da un pc di merda, possiamo dirlo, vero, vero, sì Ci siamo assemblati questo computer e quindi riesco a giocare Buono E oggi siamo qui, spieghi lei, spieghi, prego Con la Season 5 siamo qui e oggi faremo, non la nostra prima partita, ma la nostra prima partita, tra virgolette, del video, della Rison 5 E niente, iniziamo questa coppia Bella dai, iniziamo dai ragazzi, carichi Vabbè Ci divertiamo così, l'ob bizорab Marco, guardami Nooo, la ho fatte vedere la dub del cinti cuomo è un corso ragazzi no questo sta pieno fila di fra tu metto porco ok a borgo raga proviamo proviamo il medico come vedete già di già c'è già di cosa ho detto io ero ma che cazzo è dislessico oggi io lo so si sono dislessico e come vedrete ho sciopato il pass battaglia già la season 5 oggi devo fare la live cioè oggi devo conoscere i video soltanto che non li ho editati oggi per dire che oggi è 13 luglio questi video usciranno la settimana prossima cioè il 16 luglio cioè 16 16 16 luglio la settimana prossima e non volevo portare a live soltanto che musica di farla quindi ho fatto il volo del giusto faccio il volo di registrato e e sarà costruito sono delle persone c'è l'armo a marco un'arma va bene per la testa da me sì buona non vanno abbiamo disse cosa ne ho trovato è traci la nostra casa con le porte bianche Having coinvolgono a casa rossa già stati qua in casa rossa sia a testo io si no no qualcuno vero adesso a casa ci stanno ok si trovi a partire la porta stanno dentro come dorme tu di no finisci la finisci che mi dà una piccola granata sbatto a cuore l'altro fuori mannaggia e rispondente sono più fine fine video cioè questo qua e se volete la seconda parte del tempo 6 figlia che lo sto mettendo sto registrando e sto facendo tutta la cosa che devo fare se sto dicendo la sommetta di nato e non so perché sto dicendo noi andiamo a marco un grande ritorno su forte la season 5 la ragazza pure io ma presto pure io ragazzi ci vediamo anche sul mio canale sempre con vero raga e vacca il suo regante che la faccia da arrivare senza le faccia da arrivare di fuggio sotto l'unito l'utano bene però così la caccia blu ottimo manginino un punto blu del mondo che manco l'ho preso verde del nonna granate via le marco medici prendita solo a tambura prendila tassa prendila ok abbiamo capito oh granate buono 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 allora cominciamo se le armi questo qua questo qua questo qua questo qua questo qua ok c'è anche mi so prendersi di grande anche una cura ragazzi aspettate ci becchiamo in giro la botana ci sono entrato sta quasi entrato sta vicino ai camper all'entrata ok ho trovato 10 shits adesso ho trovato 10 shits poteva arrivare al 75 però e ora che mi levo piedi puoi più ai medikit mi faccio favore in teoria si però non so che levarmi perchè c'è la bomba a ballerina le pedonati mi servono e ti consiglio dove sei? si vede da me stanno i medikit a casa e poi metto il finalino all'incirca per te ok in questa casa no? sono due medikit qui dentro? ok eh si perchè mi è servito un M4 come se la tamburo mi sta a piacere quindi non lo voglio ma no ma no uno funghetti due e questi due te li lascio a te sono qui dietro ah se li prendi il link tu vabbò eh no ragazzi se li ho lasciati due funghetti però fanno altri ecco l'altro ok un punto del nonno marco vieni a prendere questi qua sono tre due hai camper sei stato tu al camper quale? i camper questi qua che stanno vicino al rifugio oppure questi qua no no qui è come il posto dei camper si ci sono stato io eh camper non hai lootato? si l'ho lootato no questi questi qua dove ho messo le segnali io qua eh si ci sono si ci sono arrivato poi l'ho sotterrata si si perfetto stiamo tornando ad andarci questo questo non è questo è questa montagna questo domenico che così vediamo ma non ci sono vieni vieni secondo me ci sta cacchetto ecco qui davanti a me sta rompe col giochino sta a vedere ho visto 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 è morto in pratica cazzo 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 rifugio quindi vado al rifugio ci sto ma è l'arco bravo che hai scelto il rifugio no ho scelto il momento soltanto che ormai è il rifugio ci sta agendo comunque ci sono la coppia io staccarà la torre con l'altra alta uno lo vede a 25 ok sto anche sono andato a casa il lanciagranate sono la cassa ci si sta ci si dovrebbe stato lucas mezzo alle scale una una ventana scala anche pure che si trova la starci che troverà ventragliatrice ok sto vicino sta scende che ho visto ora sta scendo e sta scendo e sta scendo velocissimo arrivo a dove stai ok arrivo sto qua sto qua mi hai fatto male mi hai fatto ma poco no ho visto con lui c'è uno senza skin e uno uno come sempre skinnato qualità skinnato rip lanciagranate lanciagranate ci sta un'altra senza skin ne ho toccato il bacano 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 non è come come ma qua e raga ci abbiamo provato a fare le partite e mi raccomando iscrivetevi al canale di marco vi lascio il link in descrizione spero che vi piaccia volevo portarvi una serie di boh no cazzo sto di roba già nella questa stagione e spero che questi video di stasettimana vi piacciono che dovevo riportare code un video vlog fortnite per un po forse se il terzo quarto più sogni sembra un ricordo quale episodio quarto episodio di alzate clank niente vedete programma dopo lo scrivo media sul telegram bella voglio ci vediamo lasciate like iscrivetevi noi ci vediamo al prossimo video bella voglio ciao